Torna a Wine Line e torna nei giorni che vanno da Santo Stefano al 28 di dicembre e torna nella location che ha fatto la fortuna di questa iniziativa lo scorso anno, ovvero Piazza Mercato, nel cuore della città che ospiterà la tre giorni eno gastronomica che Associazione Sunware e i rappresentanti del Consorzio di Tutela Vini Cirodoc e Melissa hanno messo su con enormi sacrifici. Tante le novità ma soprattutto le riconferme sottolineate nella conferenza stampa di Raffaele Nebbioso dell'associazione Sunware alla quale hanno partecipato anche il sindaco della città Vincenzo Voce e il vice sindaco Sandro Cretella. Ritorniamo da dove siamo partiti, quindi partiamo dalla location che è Piazza Mercato quindi torneremo in Piazza Mercato con Wine Land, Cibi e Tradizioni che è la nostra rassegna dedicata al vino, soprattutto al vino del nostro consorzio e a quello che è tutta la nostra tradizione culinaria sostanzialmente. Quindi sì, la terza edizione anche se all'interno del mercato è la seconda però fondamentalmente è la terza edizione di Wine Land. Che novità ci sono per questo evento sotto l'albero? Più che novità ci sono assolute conferme, quindi riconfermiamo il format dello scorso anno quindi della prima edizione. La cosa positiva, il dato positivo è che sono aumentate di tanto le aziende che parteciperanno a Wine Land perché l'anno scorso erano in 13 quest'anno saranno in 22 quindi abbiamo quasi raddoppiato i numeri delle aziende vinicole che credono in questo progetto e poi credo che quest'anno il dato positivo sia il fatto che comunque in quei giorni in città c'è tanto fermento abbiamo voluto fortemente riconfermare quelle date proprio in quanto abbiamo la possibilità di comunicare all'Italia intera in quei giorni cos'è Wine Land, cos'è il consorzio di Ciro, cosa sono i nostri vini, cos'è il nostro territorio. In un mese di dicembre ricchissimo inseriamo anche questa bella manifestazione che in un certo senso si conferma dopo i successi dell'inverno scorso e di quest'estate. Era d'obbligo, era d'obbligo ancora una volta sostenere un evento importante come il Wine Land tanto più in un anno particolare qual è questo qui che è potentemente influenzato dall'evento del Capodanno in cui prevediamo un afflusso particolare di persone tanto più proprio a partire dal 26 di dicembre che è la data appunto di avvio della manifestazione perché è il giorno in cui ritorneranno tutte le maestranze ritornerà il corpo di ballo inizieranno le prime prove su palco quindi prevediamo che anche l'interesse da parte dell'utenza sarà maggiore quindi era importante anche catalizzare quindi intercettare questa utenza che ci sarà in più e nell'ambito di una manifestazione che ormai conosciamo tutti e continuiamo a sostenere come amministrazione comunale.